Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, cote a tratti in direzione Bologna tra Firenze Nord e Barberino e in direzione Roma tra Aglio e Calenzano e tra Firenze in Pruneta e in Cisa Reggello. Sulla variante di Valico rallentamenti in direzione Firenze tra il Pibio con l'A1 e Badia. In A11 in direzione Firenze è chiusa l'area di servizio di Migliarino Sud per lavori. La statale 330 è chiusa in località Albiano Magra nel comune di Aulla a causa del crollo del ponte sul fiume Magra. Il traffico è deviato con indicazioni sul posto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Buon viaggio!